C'è chi è arrivato da diversi giorni e ha ancora negli occhi le lacrime e la paura della guerra in Ucraina. Prima di scappare e intraprendere un lungo viaggio hanno potuto raccogliere solo poche cose essenziali per un viaggio di migliaia di chilometri lontano dalla propria casa, per cercare di salvarsi sfuggendo a bombe cecchini, come la storia del signor Guido e sua moglie scappati da una piccola cittadina situata a circa 60 chilometri da Leopoli e ora si trovano in un residence a Roseto. Ho scappato di là per tenere libero la vita, per stare un po' meglio, purtroppo è così. Ci ho messo cinque giorni ad arrivare qua, stressante, cinque notte e quando sono arrivato qua era sfinito proprio, sfinito. Con loro sono fuggiti anche la figlia di lei incinta e mamma di una bambina di nove anni. L'incubo durato cinque giorni è cominciato il 26 febbraio con la fuga dalla piccola cittadina dove la situazione allora non era ancora precipitata del tutto. Ma la paura di ritrovarsi la guerra dentro casa li ha spinti a scappare verso la frontiera polacca. Un lungo viaggio per poi fare ritorno in Italia, quella terra che Guido e sua moglie avevano deciso di lasciare circa tre anni fa. Il suo sogno è quello di tornare nuovamente in Ucraina? Sì, sì, questo è sempre di ritornare in Ucraina. Se è possibile, se non è possibile rimaniamo qua in Italia. Però questa mattina ha ricevuto una brutta notizia? Sì, stamattina sì, perché quando ho acceso il televisore ho sentito che ha sparato vicino a noi, vicino al mio paese, a 60-70 chilometri. In Ucraina sono rimasti il genero e l'altro figlio della moglie a combattere, sua nuora, suo fratello e la madre 83enne. Ha sentito le persone che vivono ancora lì? No, ancora non l'ho sentito per niente, nessuno, ancora. Perché prima di oggi non le sentiamo. Noi stiamo benissimo qua, ringraziamo questo centro che ci ha accolto e speriamo di rimanere qua per il momento. Dopo penso di ritornare in Ucraina. Speriamo che va tutto bene, che finisce questo massacro e finisce.